E gli automobilisti, anche chi doveva rientrare a casa, si sono trovati un po' disorientati perché è cambiata la segnaletica ma ci saranno i vigili ad aiutare chi dovrà percorrere queste strade. Per esempio qui alla Fontana Luminosa, in questa via si usciva, invece adesso si potrà soltanto entrare. Infatti è stato messo l'obbligo di ingresso, sono stati cambiati i vari sensi, fermolestando che questa già prima era un'area pedonale nel quale si può passare per raggiungere le abitazioni ma non parcheggiare, cosa che è cambiata anche in via Garibaldi. Tutte scelte dell'amministrazione per rendere più agevole la fruibilità della città in questo periodo estivo anche nella centralissima via Garibaldi dove la sera ci sono tavoli per dare appunto la possibilità ai commercianti di poter lavorare meglio. Viabilità cambia, cartelli che stanno cambiando ulteriormente in questi giorni, però lo ribadiamo, i vigili urbani daranno il loro supporto. Viabilità all'Aquila si cambia ancora, giro di valser di cartelli che la municipale ha cambiato nei giorni scorsi perché con l'entrata in vigore della pedonalizzazione completa di Corso Vittorio Emanuele a partire dalla Fontana Luminosa è stata adottata una nuova viabilità per raggiungere con lato via Garibaldi e piazza Santa Maria Paganica. All'accesso già esistente verso piazza Santa Maria Paganica si aggiunge il percorso piazza Battaglioni Alpini, via Tre Spighe, via Gamarda, via Garibaldi. Da piazza Battaglioni Alpini sarà possibile raggiungere anche piazza Sant'Amico e via San Basilio ma qui è stato invertito il senso di marcia assieme a quello di via Sant'Amico in direzione viale Duca degli Abruzzi. Ovviamente resta in vigore l'area pedonale serale notturna dalle 20 alle 6 su parte di via Garibaldi che potrà essere bypassata percorrendo via Tre Spighe e via Antinori per arrivare in via Garibaldi a valle di piazza Chiarino. Nei primi giorni ovviamente un po' di disorientamento da parte degli automobilisti e dei residenti c'è stato che rispetto al tradizionale si sono ritrovati messi lì da un giorno all'altro cartelli cambiati ma ci saranno, come si spiegava, a supporto gli uomini e le donne delle municipale che saranno presenti per far comprendere la nuova segnaletica e cercare di avere meno disagi possibile.